Può dirsi quasi conclusa l'emergenza idrica dei giorni scorsi a Sciacca. Sistemato infatti il guasto elettrico alle pompe dei pozzi carbòi, la situazione sta tornando lentamente alla normalità, compatibilmente con i turni di erogazione previsti di quartiere in quartiere. Già ieri sera in alcune zone della città è ripresa l'erogazione idrica, mentre stamattina è stata la volta di Corso Vittorio Emanuele, Via Licata, San Michele e Della Perriera. Tutte zone in cui era previsto oggi il turno di erogazione. Alla nostra redazione non sono comunque mancate stamattina le segnalazioni da parte di cittadini cui i serbatoi sono ancora a secco. Evidentemente in alcune zone della città, probabilmente quelle in cui oggi non era prevista l'erogazione idrica, continuano i disagi. I responsabili di Girgentiacqua e la nostra redazione hanno confermato che il guasto e pozzi carbòi è stato riparato, tuttavia hanno aggiunto occorre il tempo necessario perché le vasche si riempiano e l'erogazione idrica laddove oggi è prevista potrebbe slittare di qualche ora rispetto al solito orario in cui viene erogato il servizio. Non solo, scoperti oggi potrebbero restare alcuni quartieri o piccole zone della città dove non era comunque prevista l'erogazione. Entro domani è auspicabile che la situazione torni definitivamente alla normalità con il ripristino dell'erogazione idrica in tutte le zone della città servite dai pozzi carbòi. Insomma, i cittadini dovranno continuare a pazientare qualche ora con l'ospicio che quella appena trascorsa sia solo la prima e l'ultima emergenza idrica dell'estate.